Marcello Candia Figlio di un industriale milanese che per lavoro si trova temporaneamente a Napoli con la famiglia, Marcello Candia nasce nel comune di Portici all'inizio del Novecento. Dopo gli studi, eredita l'azienda del padre a Milano. Oltre a occuparsi di affari, si dedica molto anche alla cura dei bisognosi. Aiuta gli ebrei e gli altri perseguitati che provengono dal disastro della Seconda Guerra Mondiale, assiste i poveri delle periferie di Milano. Collabora alla fondazione di un'associazione che ospita donne e neonati in difficoltà, chiamata Villaggio della Madre e del Fanciullo. Questo desiderio di aiutare il prossimo cresce sempre di più e Marcello, detto l'industriale della carità, decide di partire per il Brasile come missionario. Marcello vende l'azienda, la sua casa e tutti i suoi beni e trascorre il resto dei suoi anni nelle terre della foresta amazzonica, dall'altra parte del mondo, così lontane dallo stile di vita a cui era abituato. Dopo aver conosciuto la ricchezza, infatti, sperimenta l'estrema povertà delle periferie brasiliane, le favelas. In queste zone, subito fuori dalle grandi città, le famiglie abitano in baracche di lamiera. Le strade sono piene di spazzatura e i bambini giocano nella sporcizia senza avere molto da mangiare. Marcello Candia usa i suoi soldi per far costruire due ospedali per i poveri che non possono pagare le cure, alcune scuole per medici e infermieri e un centro specializzato per la lebra, una malattia della pelle molto grave. Durante una visita a questo centro, nel 1980, Papa Giovanni Paolo II incontra Marcello, lo abbraccia e lo ringrazia per il suo grande impegno nell'assistenza di chi più ha bisogno di aiuto. Grazie a tutti.